Stanno proseguendo i trasferimenti di pazienti infetti al polo covid di Scafati, una decina quelli già trasferiti nella giornata di ieri, la maggior parte dei quali dal reparto di malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Al momento sono quattro i pazienti trasferiti in terapia intensiva respiratoria, gli altri nel reparto di pneumologia dove sono stati attivati per il momento 14 posti letto di degenza sui complessivi 24 predisposti. Dal Mauro Scarlato intanto giunge la conferma della positività al virus di uno degli operatori sanitari impegnati da giovedì sera nei reparti attrezzati al terzo piano della struttura. Si tratta di un infermiere asintomatico già posto in quarantena domiciliare. La direzione sanitaria chiarisce che la persona in questione non ha contratto il virus all'interno del presidio. La positività al covid-19 è infatti emersa in seguito allo screening che il professor Mario Polverino, neocommissario ASL per l'emergenza coronavirus e responsabile delle attività del polo covid di Scafati, ha voluto effettuare su tutto il personale sanitario reclutato per il presidio scafatese prima dell'avvio delle attività, quale ulteriore procedura di sicurezza a tutela di tutti. Proseguono intanto a ritmo serrato i lavori per l'attivazione di altri posti letto al terzo piano del polo covid, partendo dalle ulteriori dieci postazioni già pronte nel reparto di pneumologia. Per la prossima settimana dovrebbero inoltre essere disponibili anche i sedici posti letto del reparto di lungodeggenza al primo piano dove sarà trasferito l'intero reparto di malattie infettive dell'ospedale di Nocere Inferiore. Successivamente saranno attivati sullo stesso piano i dieci posti letto della rianimazione e gli altri quattordici del reparto di medicina. Sul fronte dei contagi ha Scafati il numero sale a quota 15. Lo ha confermato questa mattina il sindaco Cristoforo Salvati, precisando che di questi 15 cittadini 5 sono in via di guarigione. Si tratta dei componenti della famiglia Scafatese e risultati positivi al virus agli inizi di marzo. Stanno tutti bene e avrebbero già ultimato il periodo di quarantena domiciliare. Il primo cittadino ha inoltre chiarito che a Scafati non ci sono focolai, invitando comunque tutti a non abbassare la guardia e a continuare a restare in casa.